Toro verde possiede un frutto del diavolo, che gli permette di generare vegetazione, e di controllarla liberamente. Le piante che crea possono crescere rapidamente e muoversi liberamente, apparentemente senza essere limitate dalla rigidità che alcune piante normalmente possiedono. Quando ha attaccato i pirati delle cento bestie, ha trasformato le sue dita in rami d'albero affilati, e li ha fatti crescere liberamente per impalare decine di nemici su una vasta area con facilità. Inoltre, è in grado di assorbire rapidamente qualsiasi liquido, riuscendo a disidratare le creature viventi dopo averle impalate, lasciandole come gusci raggrinziti. Sembra che sia in grado di assorbire la vitalità di ciò che disidrata. Può anche utilizzare le piante in maniera creativa, come far crescere un fiore gigante sulla schiena ed usarlo per volare. È stato anche dimostrato che erba, alberi e fiori crescono al suo passaggio, lasciandosi dietro una scia di piante ovunque cammini. Grazie a tutti!